Buongiorno a tutti. Oggi, 15 aprile, San Damiano de Wester ed è la giornata mondiale dell'arte proclamata alla quarantesima sessione della conferenza generale dell'UNESCO nel 2019 ed è una celebrazione per promuovere lo sviluppo, la diffusione e la fruizione dell'arte. Come affermato il direttore generale dell'UNESCO, si tratta di un tempestivo promemoria che l'arte può unirci e connetterci anche nelle circostanze più difficili. In effetti il potere dell'arte di riunire le persone, ispirare, guarire e condividere è diventato sempre più chiaro durante i recenti conflitti e crisi, compreso il Covid-19. È stato scelto proprio il 15 aprile perché l'UNESCO ha deciso di celebrare questa giornata in onore del grande Leonardo da Vinci, nato il 15 aprile 1452 e riconosciuto come uno dei più grandi geni dell'umanità. Grazie a tutti!